Anche io sono molto affezionata a Barcarello sicuramente, tra l'altro abito praticamente a 100 metri da Barcarello ma è una zona che porto nel cuore perché appunto conservo ricordi da bambina, è il posto dove ho imparato a nuotare da piccolissimi come Bravas Fragavallese, naturalmente tutti i bambini qui appunto nella nostra cultura c'è la cultura appunto di imparare a nuotare molto molto presto, è una zona che è sicuramente emblematica perché non c'è commercio perché c'è solo un passeggio, non c'è assolutamente nulla, è una zona rurale ancora allo stato grezzo che sicuramente rappresenta Fragavallo in tutta la sua bellezza.